Qualche impressione prima di morire? Molta impressione, molta impressione. Niente da dire al pubblico a casa, alla moglie che lasci qui sull'alte 4C? No, peggio, la lascia sull'alte 4C è più facile. Ti lascio in eredità il Q4. Il 4C chi lo lasci a me, vero? Va bene, tanto sono morto. È documentato, ottimo, buon giro. Grazie.